Lo scoppio della guerra in Ucraina ha causato un'emergenza umanitaria con effetti che sono dirompenti su scala mondiale. Sin dalle prime fasi della guerra in Italia c'è stata una grande mobilitazione per accogliere i profughi dall'Ucraina che sono prevalentemente donne insieme ai loro figli e insieme alle loro figlie. Il loro bagaglio è pesante, hanno assistito alla distruzione delle loro case, delle loro città, ma anche delle loro abitudini di vita e dei loro progetti futuri. Hanno affrontato la separazione dei loro cari, in alcuni casi senza poter più ristabilire neanche un contatto. Hanno vissuto lutti e hanno visto scene di morte, anche cruente. Hanno senz'altro bisogno di ristabilire sicurezza e stabilità, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. CHAI, per dare un aiuto efficace, ha costituito uno sportello di supporto psicologico composto da psicologi e psicoterapeuti esperti nel campo dei funzionamenti post-traumatici e che si avvale della mediazione linguistica. Lo sportello di supporto psicologico è rivolto alle persone di nazionalità ucraina già residenti in Italia oppure arrivate con lo scoppio della guerra, ma si rivolge anche alle famiglie e alle persone che stanno accogliendo. Chi accoglie infatti si trova ad affrontare una riorganizzazione importante di spazi ed impegni per un tempo che non è definibile e soprattutto entra in contatto diretto con la sofferenza, sentendosi investito emotivamente e della responsabilità di aiutare. Lo sportello nasce anche per relazionarsi con associazioni impegnate con i profughi ucraini e con le scuole, che è il luogo in cui i minori vengono progressivamente inseriti. Lo sportello di supporto psicologico è gratuito ed è online e quindi è attivo su tutto il territorio nazionale. Per richiederlo è possibile telefonare al numero 02 84 84 44 448 oppure scrivere all'indirizzo mail www.caipe.cai.it